Allora, questa è la nostra ultima canzone, dovete dire nooo, allora vi do a spiegare come funziona il music business, allora noi diciamo che è l'ultima canzone, vedete no, one more song, noi diciamo ok, ne abbiamo altri 46 da fare, ma si funziona solo così, non è perché ci volete ancora sul palco, lo dobbiamo fare, siamo pagati per questo, quindi questa è la nostra ultima canzone, allora restiamo, grazie. One more song! 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 A presto 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 A presto